La democrazia in Toscana non si è fermata nonostante il Covid, in soli due mesi si sono svolte 14 sedute d'aula, 32 commissioni, la presenza di circa 99% da parte dei colleghi consiglieri, solo 5 assenze su 560 e sono le presenze complessive. Noi ci siamo posti l'obiettivo di fare di questo luogo del Consiglio regionale il luogo per dare voce a chi non ne ha, per farne la casa di tutti i toscani. Per questo nel 2021 ci poniamo l'obiettivo che il Consiglio regionale della Toscana diventi il Consiglio regionale più digitalizzato d'Italia, questo serve da un lato per far lavorare meglio i colleghi consiglieri, ma soprattutto un modo per aprire all'esterno il Consiglio regionale, per dare a tutti l'opportunità di seguirci, di porci sollecitazioni, di darci anche stimoli per il nostro lavoro. È una sfida che richiede il supporto di tutte le forze politiche e di tutta la struttura, perché noi vogliamo sempre più che il Consiglio regionale diventi la casa di tutti i toscani. E infine, un impegno che ci prendiamo nei primi mesi dell'anno, predisporre e dare a tutti i toscani che lo vorranno un libro, un fotoracconto di questi mesi terribili della pandemia, con gli sguardi di chi ha operato in prima linea, degli operatori sanitari, medici, professionisti, infermieri, volontariato, forze dell'ordine e un modo anche per rendere omaggio a chi di loro è stato in prima linea e ha permesso che la Toscana abbia vissuto questi mesi di fatica, di dolore per tante famiglie, nella maniera migliore possibile. A partire dal Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzea, è una carrellata partito per partito di propositi da affrontare con priorità per il 2021. Per troppo tempo il Consiglio regionale è stato un luogo distante, forse il più distante dalla politica dai cittadini e invece qui si gioca il futuro di tanti di loro, specialmente dal punto di vista sanitario e quindi noi con il nostro lavoro vorremmo legiferare nella maniera migliore possibile per fare leggi di qualità che siano in grado di dare ai cittadini chiarezza. Oggi manca chiarezza, penso anche alle scelte che sono state fatte sulle zone arancio, rosse, gialle. I cittadini invece hanno bisogno di risposte chiare, gli imprenditori hanno bisogno di tempi certi nelle risposte per poter rilanciare la loro azione e il prossimo anno noi dobbiamo metterci questa parola, chiarezza come parola attorno a cui lavorare e impegnarci e dare risposte a tutti. Il nostro dovere è quello di affrontare tutto responsabilmente con le chiare distinzioni tra i rispettivi ruoli, ma cercando comunque sia il confronto, il dialogo. In ufficio di presidenza abbiamo prodotto delle proposte di leggi importanti per venire incontro a delle categorie che non erano state quasi per nulla considerate dai ristori nazionali. Fuori c'è veramente sofferenza. Noi dobbiamo interpretare questa sofferenza e dare risposte per quello che è possibile in modo, torno a ripetere, responsabile. In più mi si lascia dire che è anche una grande occasione per affrontare ancora di più il tema che mi sta a cuore, che è quello di una regione forte, sempre più forte per dare risposte migliori ai cittadini. Se riparte il tessuto economico, se riparte la produzione, se si crea lavoro, se si affrontano finalmente le crisi aziendali, questa regione ha una prospettiva. Noi non possiamo ragionare sempre con il traino dell'Europa. Noi dobbiamo affrontare le nostre sfide adesso con politiche concrete. La nostra priorità sarà questa, cercare di, per quanto riguarda ovviamente quello che è il nostro ruolo di opposizione, stimolare interventi sostanziali per la difesa dell'economia. Italia Viva intanto termina il 2020 con dei risultati importanti che ci hanno consentito di portare a casa la discussione sul recovery plan, di portare e di sospendere la discussione rispetto alla modifica dello statuto che non ci trovava a Concordi e vorrà portare avanti discussioni nel merito. Penso con quello che abbiamo fatto sull'istituzionalizzazione della Guardia Medica, penso con le risorse da fare sulla sanità, il piano vaccini, accompagnare il percorso sanitario e fare investimenti strutturali, accompagnare il percorso del turismo. Potrebbe essere l'anno della rinascita della nostra regione e quindi serve una grande strategia che riguarda il turismo, la realizzazione degli interventi infrastrutturali che abbiamo chiesto, sostegno alle imprese e alle categorie sociali maggiormente in difficoltà e a tutti coloro che hanno perso anche e potrebbero rischiare di perdere il lavoro nei prossimi mesi. Quindi sarà un anno complesso nel quale Italia Viva si farà sentire e giocherà una partita a favore dello sviluppo ma anche dell'assistenza e del sostegno economico e sociale alle categorie più deboli e soprattutto però sarà l'anno nell'ambito del quale ci misureremo rispetto a alcune scelte strategiche, penso al piano dei rifiuti e piano infrastrutturale da realizzare nei prossimi cinque anni. Le priorità per il prossimo anno noi le abbiamo tradotte in atti che discuteremo e voteremo in queste ore, bonus bebè per tutti i toscani, significa 2000 euro per ogni bambino che nasce per i primi tre anni di vita del figlio, il Regione Toscana lo può fare, è un provvedimento che costa meno di 50 milioni di euro, sul bilancio regionale c'è assolutamente spazio, quando ho governato, quando ho fatto il sindaco, ho fatto questo tipo di provvedimento, vorrei che diventasse un provvedimento per tutta la Toscana. Priorità per quanto riguarda, l'abbiamo già messo in mozione, lo rimettiamo oggi in un atto collegato al bilancio, investire sugli ospedali periferici perché abbiamo visto come depotenziare gli ospedali periferici di fatto crei problematiche sia ai territori periferici che al centro perché si ingorgano i grandi ospedali. Dopodiché noi pensiamo a un grande piano di manutenzione per l'edilizia popolare residenziale perché comunque gli alloggi sono molto spesso vecchi, hanno bisogno di un intervento importante. Il Consiglio nel 2021 dovrà affrontare molti temi, principalmente i temi della ripartenza e del rilancio dopo le misure restrittive che anche in queste vacanze di Natale, in questo periodo natalizio, hanno messo a dura prova il nostro tessuto economico. Sono già diverse le proposte di legge in analisi che prevedono ristori e contributi ai più diversi settori. Per quanto riguarda l'azione della Commissione Cultura dovremmo anche prevedere una legge strutturale che dia fiato, che dia sostegno a questo delicato settore che ha davvero sofferto per le misure restrittive. I nostri teatri, i nostri cinema, i musei sono chiusi da tempo, sono in forte sofferenza. Qualche segnale di attenzione è arrivato già dai provvedimenti della Giunta regionale, qualcosa farà il Consiglio regionale, l'ha già annunciato il Presidente del Consiglio e Mazzeo, ma molto dovremo lavorare nel corso del prossimo anno per dare davvero strumenti di azione e sostegno vero a chi deve rimettere in pista queste attività e recuperare un anno che è stato davvero difficile. Innanzitutto digitalizzazione. La banda larga è una priorità, ma a questo punto dobbiamo fare un passo indietro e pensare semplicemente già a dare una connessione internet ad alcune aree. Siamo molto indietro rispetto al resto dell'Europa e persino a molte parti dell'Italia. Innovazione che significa anche una digitalizzazione della pubblica amministrazione e in questo senso bisogna procedere speditamente, così come sta andando all'agenda della Ministra Dadone, che sta facendo un grande lavoro in questa direzione. E bisogna guardare all'ambiente, perché se è vero che la sanità è importante, gestire al meglio l'ambiente, andare verso un superamento delle discariche, degli inceneritori e rendere il Green Deal, quindi il patto per il verde, per l'ambiente è davvero reale, bisogna andare verso un cambio di prospettive. Aspettiamo il piano rifiuti, ad esempio, e il piano amianto. E aspettiamo che la scuola in Toscana ritorni al centro dell'agenda e non venga semplicemente vista come un qualcosa che si deve gestire in qualche modo tra le mille emergenze. Anche lì la Ministra Zolina ha emesso centinaia di milioni per il rinnovo delle scuole, l'edilizia scolastica. Dobbiamo continuare ad andare in questa direzione, pensando appunto, come per il piano di resilienza, alle generazioni future. Un grande investimento di sostegno alle nostre imprese, perché questo è quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo capire che in questo momento noi dobbiamo tenere il tessuto economico che abbiamo fatto da artigiani, tassisti, ambulanti, fieristi, bar, ristoranti, cioè da tutte quelle piccole imprese che in questo momento fanno grande fatica e che tutte le risorse devono essere messe lì a fondo perduto, perché quel tessuto commerciale e artigiano è il tessuto che ci potrà servire per ripartire. Se non capiamo questo, vivremo una crisi senza precedenti, perché andremo ad avere a marzo, purtroppo arriverà anche lo sblocco dei licenziamenti e quindi ci sarà la possibilità di licenziare, non ci sarà più la cassa integrazione che sosterrà i lavoratori e quindi i licenziati molto probabilmente non potranno andare da nessuna parte perché lo Stato non ha più soldi. L'unica possibilità è sostenere le attività imprenditoriali e questo lo possiamo fare soltanto attraverso alcune misure. La prima è il fondo perduto, dobbiamo sostenere quello che noi oggi abbiamo. Poi penseremo anche a come trasformare, a come riportare i turisti, ma se non facciamo questo e poi l'altra misura che noi dobbiamo fare è sostegno a medici, infermieri, al mondo del volontariato, perché chi va a giro negli ospedali, io mi sono fatto un giro anche la settimana scorsa, si rende conto come quel sistema è sotto stress, non soltanto nei luoghi dove c'è il Covid, ma in tutto il plesso ospedaliero. Anche laddove si fanno i prelievi, per esempio alla piastra a Careggi, la mattina chi fa i prelievi è sotto stress perché non sa mai chi si trova di fronte e sono costretti anche a lavorare in condizioni davvero disagiate, sempre con la mascherina, sempre con i guanti, sempre con i camici, quindi quel mondo lì va sostenuto. Il Regione Toscana ha presentato il bilancio di attività del difensore civico, circa 2.000 alle istanze presentate nel 2020, in crescita rispetto all'anno precedente. Una crescita prevalentemente sull'emergenza sanitaria, 150 casistiche di natura generale hanno riguardato problemi di cittadini sul Covid, ma non singoli problemi, ma problemi che appunto riguardano la loro generalità di diritti. Tante istanze sul tema dell'emergenza economica, bollette, luce, acqua e gas, quelle che prima pesavano in una certa maniera con l'emergenza economica, pesano molto di più. La difficoltà dei cittadini è rivolta soprattutto ai gestori dei servizi, luce, acqua, acqua un po' meglio grazie alla presenza di AIT, Autorità Idrica Toscana, dove c'è una conciliazione che viene svolta da anni e il difensore, grazie ad AIT, svolge questo ruolo di definizione delle controverse tramite un organismo nato appunto un organismo di conciliazione nell'acqua, ma la luce e il gas e l'energia hanno dei problemi perché l'interlocuzione è con non gestori di prossimità ma gestori nazionali, così il tema del digital divide della telefonia. I cittadini vedono in noi un filtro, svoliamo una funzione di filtro verso i conflitti che i cittadini hanno con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici. Siamo sostanzialmente nel corpo umano il fegato, da noi vengono a portare i problemi, da noi i cittadini trovano un punto di ascolto e noi cerchiamo di rimuovere gli ostacoli che sovente hanno con la pubblica amministrazione, adempimenti online non sempre ben funzionanti, tutto il tema del rapporto alla pubblica amministrazione e anche trasporti pubblici che dobbiamo dire abbiamo rilevato molti problemi soprattutto oltre che in sanità ma anche con i gestori dei servizi pubblici. Pensando poi al momento storico caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 il difensore civico molto ha lavorato in ambito sanitario. Tempestività dei tamponi, problema della tracciabilità, problema di corretta comunicazione, funzionamento delle terapie intensive, ripresa dei servizi sanitari ordinari, sono stati bloccati tutto il tema oncologico, tutti i percorsi assistenziali psichiatrici e di riabilitazione. Noi abbiamo sollevato tanti problemi, stimolato le aziende sanitarie ospedaliere a risolvere questi. Ultimo in fondo per esempio anche tutto il tema della fornitura dei vaccini antinfluenziali che non è stata puntuale e tempestiva a differenza di certe dichiarazioni. Io intendo il ruolo del difensore civico non solamente come colui che difende le istanze dei cittadini ma colui che crea dei legami tra i cittadini e le istituzioni. Esattamente in linea con la mia idea di governo della regione toscana, l'idea di fare del Consiglio regionale un luogo per dare voce a chi voce non ce l'ha, uno spazio aperto in cui i cittadini si sentano a casa propria. Troppo spesso il Consiglio regionale non viene percepito da chi sta sul territorio per quello che è il suo lavoro e per quello che viene fatto. Io credo che la strada intrapresa sia quella giusta anche con degli uffici territoriali. Ne abbiamo inaugurato insieme uno a Pisa lo scorso anno ma ci sono in varie parti della regione. La strada è quella a portare sempre più la regione verso i territori per fare in modo che anche i territori più disagiati possano avere le loro opportunità come tutti gli altri. Ed infine una proposta che ho fatto già al difensore civico, quella di lavorare ancora di più sul tema del divide digitale per dare risposte a chi oggi ha meno risposte su questo tema. Io ho lanciato la proposta, è stata approvata nel recovery fund di fare in modo che la banda larga, il 5G ci sia in tutta la Toscana anche nelle aree in cui i privati non vogliono investire. Credo che questa sia una strada da perseguire insieme. Sono convinto che Sandro e gli uffici lo faranno con passione, dedizione e con l'impegno di contraddistingue. Grazie a tutti. Grazie a tutti.